La compagnia assicurativa del comune di Arde ha liquidato 150.000 euro di indennizi a decine di automobilisti che hanno registrato danni alle proprie macchine a causa del pessimo stato in cui sono tenute le strade della città. Di questi, 13.000 euro sono a carico dell'amministrazione. Per evitare ulteriori stangate, il sindaco Mario Savarese ha deciso di stanziare 200.000 euro per tamponare le situazioni più critiche e pericolose, come Viale Nuova Florida, Via Pian di Frasso, Via Pescarella e Via Santa Marina. Purtroppo resta fuori Via Laurentina, di competenza della città metropolitana. La situazione delle strade del territorio sta diventando davvero insostenibile, ha dichiarato Savarese. Speriamo di partire con i cantieri entro i primi giorni di giugno. L'obiettivo è incrementare questo fondo attraverso gli oneri concessori che stiamo per incassare, ha concluso il sindaco.